Musica E oggi è una giornata davvero speciale perché per la prima volta avviene un evento organizzato da questa bella signora che si chiama Sara Garofano che è l'ideatrice di questo gruppo che si chiama Piloti di Facebook. Sara come ti è venuta in mente tutta questa straordinaria idea? Allora innanzitutto il gruppo è stato fondato un paio di anni fa perché appunto per mio volere io sono pilota, volevo raggruppare in una pagina tutta mia i miei amici piloti. Siete diventati in tanti ormai? Sì, siamo 12.000 persone di ogni parte del mondo, piloti di ogni genere e grado si dà agli ultraleggeri, agli aeromodellisti, aviazione generale, piloti militari e così via. La Infinity è una pattuglia di aeroplani ultraleggeri, ovviamente avanzati, che prende spunto dalle novità che ci sono state in materia di volo in formazione da parte dell'aeroclub. Facendo un corso si può accedere a una piccola pattuglia. È una pattuglia piccola sotto il punto di vista dell'età, ma non piccola sotto il punto di vista dei numeri perché è la prima pattuglia di aeroplani ultraleggeri composta da 12 velivoli. Sono 12 velivoli ultraleggeri, quasi tutti uguali, tutti con le medesime prestazioni, ovviamente per mantenere dei parametri di volo che siano uguali per tutti e quindi poter volare in sicurezza. La cosa importante di Infinity, il messaggio che vuole portare, è ovviamente che si può fare anche con gli ultraleggeri. Una cosa importante, in maniera molto pomposa, ci hanno anche definito le freccette tricolore, quindi con tutto il rispetto ovviamente per le frecce tricolore, che noi abbiamo sempre, non dico nel cuore, ma le abbiamo all'interno di Infinity perché uno dei nostri piloti è il comandante De Rinaldis, il generale De Rinaldis, che è stato comandante delle frecce tricolore. Ci sono anche altri piloti che hanno fatto parte della più grande formazione italiana, dai quali ovviamente noi piloti che veniamo assolutamente dal civile, cerchiamo sempre di rubare il più possibile, il massimo possibile, soprattutto sulla sicurezza, perché la cosa che ci dicono sempre, che ci hanno insegnato dall'inizio, volare in formazione è bella, è un unico aeroplano, ma è una cosa da fare con molta testa. L'ultima cosa che voglio dire sull'Infinity è il cuore pulsante della formazione, che è una donna, si chiama Valentina Papa, è una pilota militare, anche lei. Valentina è il nostro leader, è il numero uno leader della formazione. Abbiamo degli amministratori, uno dei quali è William Peruzzi, che è l'istruttore di volo appunto di questa aviosuperficie di Terni, che vedete è bellissima, che mi ha dato forza e coraggio e supporto in tutto questo. Poi l'aeroclub di Terni ovviamente si è aggiunta a questo progetto, aiutandoci in tutto questo. Un gruppo così forte, così numeroso, immagino avrà anche delle altre iniziative, vorrà promuovere anche delle altre iniziative. Qui ho visto il generale Landi, ad esempio, che ha parlato di sicurezza del volo. Continuerete su questa strada, no? Presumo proprio di sì, visto il successo che abbiamo ottenuto in queste giornate, presumo che continua. Hai parlato di Carlo Landi, vorrei spendere due parole, perché Carlo è un amico innanzitutto, ma si occupa di un argomento che è molto, diciamo, importante per noi piloti, appunto la sicurezza a volo. Generale, cos'è Volare Sicuri? È un progetto che è nato un po' come una voglia venuta a 4 o 5 miei colleghi e a me stesso di passare quelle che sono le nostre conoscenze e le nostre esperienze nel volo militare e nel volo professionale ai piloti dell'aviazione generale del VDS, cioè a quelli che volano per passione. Conoscenze soprattutto indirizzate alla prevenzione degli incidenti in modo da migliorare la qualità del volo proprio di questi piloti. Quali sono i fattori comuni che possono portare a degli incidenti? Oggi ormai la scienza della prevenzione e della sicurezza a volo è molto avanzata ed è accertato che oltre il 60-70% degli incidenti è dovuto al fattore umano, cioè non tanto alla macchina, non tanto a rotture o a malfunzionamenti, quanto proprio ad errori di pilotaggio oppure a mancanze da parte di altri elementi che non sono solo i piloti, che però intervengono nel volo, ovvero la manutenzione oppure gli stessi apparati che hanno delle limitazioni. Quindi è importante preparare il pilota, soprattutto quelli dell'aviazione generale e dei VDS, che non hanno strutture importanti che li possano proteggere, a costruirsi personalmente una cultura del volo. Insieme a FlyEurope volevamo fare delle piccole pile di sicurezza, cosa aveva in mente di fare? Sì, FlyEurope è molto attiva anche nel settore della prevenzione e della sicurezza, questo va detto e vi vanno fatti i complimenti. Proprio per questo stiamo avviando questa collaborazione con Volare Sicuri, prepareremo dei piccoli video, molto corti, 2-3 minuti, in modo che possono essere fruiti, visti in qualsiasi momento dai piloti, in ognuno dei quali daremo delle indicazioni su come affrontare situazioni particolari durante il volo o in preparazione del volo, che è altrettanto importante. Oltre a quello che state già facendo, quali altre iniziative si potrebbero interprendere per unire i piloti? Volare Sicuri ha in progetto, e in questi giorni lo metteremo in linea, ha in progetto di creare un sito internet che si chiamerà proprio Volare Sicuri, con il nostro nuovo stemme ufficiale, e su questo sito i piloti potranno tutti intervenire, ma soprattutto potranno trovare, come già avviene in parte sulla pagina Facebook che abbiamo, sempre Volare Sicuri, potranno trovare tutto il materiale che gli serve per preparare bene il loro volo, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della pianificazione, sia delle informazioni meteo, e soprattutto potranno trovare degli interlocutori qualificati, come i miei colleghi che mi aiutano in Volare Sicuri, che risponderanno a tutte le loro domande. La sicurezza innanzitutto, e questo l'abbiamo voluto fortemente presente in quest'ora duro. Continueremo su questa via, presumo, perché abbiamo già richieste anche di altre aviosuperfici per fare questa iniziativa altrove, perché sarebbe bello farlo itinerante e coinvolgere più persone possibili, più regioni possibili. Noi di Fly Europe cercheremo di seguirvi, di raccontare in tutta Europa queste cose, far capire che i piloti in Italia si danno da fare, e cercano di stare insieme il più possibile per essere una forza, per rappresentare al meglio la propria passione, i propri interessi, e quello che è il mondo dell'aeronautica, che ha bisogno di essere, credo, riposizionato. Sei d'accordo? Assolutamente sì. Grazie mille della partecipazione, perché anche voi di Fly Europe avete dato un bel contributo essendo qua con noi oggi. Grazie a te.